PEGI 18 Qui Bravo 1, siamo arrivati presso il punto prestabilito. Diamo inizio all'operazione Azir Cave. Sì, salve, perdoni l'orario, ma avrebbe tempo per parlare del nostro signore? No! Ma come no? Cioè, ma... Sono modi questi! L'educazione! Via le luci. Ragazzi, non vedo una fava. Ah, molto meglio. Che è sta roba? Io sono Made in China. Cazzo! Rilevo dei nemici. Ma non mi dire! Sono entrato in modalità giramento di cazzo. Qui sempre Bravo 1, siamo arrivati presso l'area di atterraggio. Comincia l'operazione Euphrates Bridge. Sì, mi avanzavano dei mirini. Ah, è un lanciapuffi. Bentornate, bestemmie. Ehi, ma porca ma... Capo, ci sono dei camperoni sul ponte. Ricevuto, stiamo provvedendo per toglierli di mezzo. Operazione Gunrunner iniziata. Fosforo bianco? Ma ragazzi, le convenzioni internazionali dicono che... Dai zitto e spara! Ok. Ehi, ragazzi! Sono incazzato come una bestia! Ah, siamo nella merda. Qual era il tasto dei missili? Qual era il tasto dei missili?! Operazione Graznaraiid. Ecco arrivato il mio pacco di Amazon. Ehi, stateli lontano. Ho anche pagato le spese di spedizione, morti di fame. Quella lattina ambulante mi ha rotto il cazzo. Voi, in quanto operatori, sarete addestrati. E io campero. Muniti di una dotazione completa. E avrete il supporto di altri mezzi. Cazzo, mi attaccano il fortino! In parole povere, se perdete, siete dei nabbi.